Che cosa mi avete fatto? Ti abbiamo dotato di alcune abilità che sfortunatamente non siamo ancora riusciti a identificare Lasciala ragazzi! Che cosa mi avete fatto? Ciao Ciao Come stai? Come potrei stare? Mi concentravo a salvare le persone Non sono riuscito a salvare Ho perso Spiegami la situazione e forse potrei aiutarmi Abbiamo fatto degli esperimenti Mi hanno messo dei superpoteri Ma ti parlerò di questo più avanti Che cosa ne farei di questi superpoteri? Mi userò per scoprire che l'ho ucciso E' vendita Sei sicuro? Con la vendetta non si risolve nulla Si sono sicuro Ho perso l'unica cosa che non posso Devo vendita Stavo su Che ti succede? Allora, è pronto? Manca poco L'abbiamo colpito nei sentimenti Adesso dobbiamo sbarazzarci di lui Quando sarà pronto potrà riaffrontarlo di nuovo Sono passati sei mesi Ed è diventato un eroe E lui lo schaffigerà Oddio Oddio Non è possibile Cosa ci fai qui? Ho visto il video che mi hai mandato Dove sono? Tu riesci a liberarti? Non riesco Di nuovo tu Escapa Allora sei viva Allora sei viva Non riesco Tic Non riesco A Che Come ha ricostrutto lui? Posso ricostruire tutto. Perché è proprio lei? Perché sei l'unico soggetto umano. Lei era l'unico vado per attirarti qui. Lei era l'unico vado per attirarti. Lei era l'unico vado per attirarti. Lei era l'unico vado per attirarti.